Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi affrontati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi partiamo con due interrogazioni alle quali è risposto in aula il Presidente della Regione Eugenio Gianni su due specifici temi, quello della sanità e degli aeroporti di Firenze e Pisa. Vediamo. La volontà della Regione è quella di realizzare la nuova aerostazione a Pisa e la pista che può consentire gli obiettivi di sicurezza e abbattimento dell'inquinamento acustico nello scalo di Peretola che già nel decreto ministeriale del 1929 prevedeva una pista parallela all'autostrada. Con queste parole il Presidente della Regione Eugenio Gianni ha risposto all'interrogazione dei consiglieri di Italia Viva sulla posizione della Giunta rispetto all'iter realizzativo della nuova pista dell'aeroporto di Peretola e per conoscere lo stato di avanzamento del progetto. Gianni ha poi ricordato che c'è stato un dibattito pubblico terminato con varie osservazioni. Toscana Aeroporti, nella sua relazione ad Enac, ha indicato la modifica del progetto tenendo conto delle osservazioni. Entro Pasqua il materiale di questo progetto di pista declinata di 2200 metri verrà trasmesso a Roma. Una volta approvato si passerà alla fase esecutiva. Presumo, ha concluso Gianni, che a settembre e ottobre inizierà la fase di realizzazione dell'opera. Eravamo un po' preoccupati dall'esito dell'ultimo congresso sia regionale che nazionale del Partito Democratico perché, come tutti sanno, Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi, aveva posizioni, diciamo, contrarie alla nuova pista e avere avuto oggi il governatore Eugenio Gianni che è venuto in aula a ribadire con forza che la pista si farà, che addirittura entro Pasqua è possibile avere, come dire, i progetti definitivi in attesa della via della Vassa per poi addirittura entro ottobre riuscire a iniziare un minimo di lavori ci fa sentire molto più sereni. Devo dire che tutto questo poi va anche in perfetta linea con quanto assedita stamattina dal sindaco Dario Nardella che tra le 15 opere più importanti, quanto meno da iniziare, entro la fine del suo mandato c'è proprio la pista di Peretola, la nuova pista dell'aeroporto di Firenze. Sempre nell'aula dell'Assemblea Toscana il Presidente della Regione ha risposto a un'altra interrogazione sul tema della sanità presentata dalla consigliere della Lega Marco Landi e incentrata sull'ipotesi di interventi da parte della Giunta per accentrare il pareggio di bilancio. Lo dico in modo netto, chiaro, fermo e puntuale, nessun taglio ai servizi, ha affermato Gianni, sottolineando che allo stato attuale abbiamo sostanzialmente un pareggio di bilancio sul 2022, quindi, ha ribadito il Governatore, nessuna previsione di agire entro il 30 di aprile sulla leva fiscale. Il Presidente Gianni ha risposto alla nostra interrogazione sul fatto che il neoeletto segretario del PD Fossi aveva dichiarato che ci sarebbe stato un cambio di passo e aveva fatto anche pensare che magari sui ticket sanitari o su altri tipi di interventi si potesse mettere le mani nelle tasche dei toscani. Dobbiamo dire che Fossi non ha trovato sponda in Consiglio regionale né tanto meno nella risposta del Presidente Gianni che è stato molto chiaro nella sua risposta e affermazioni dicendo che non intende assolutamente aumentare le tasse e quindi quello che è la dinamica interna al PD lo scopriremo nei prossimi mesi ma sicuramente ci fa pensare che Fossi dica delle cose ma poi alla fine all'interno del PD manchi chiarezza. Però a noi rassicura il fatto che le mani nelle tasche dei toscani la Giunta regionale non ce le mette. Altro tema all'ordine del giorno in Consiglio regionale è quello riguardante la figura del sottosegretario alla Presidenza di Giunta con una specifica legge che ha visto anche un acceso dibattito. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge sulle strutture di supporto agli organi di governo la quale definisce che i costi relativi all'introduzione della nuova figura del sottosegretario alla Presidenza della Giunta Toscana e all'ampliamento dell'Ufficio di Presidenza con la nomina di due segretari questori non graveranno sul bilancio regionale. Approvata a maggioranza anche la proposta di legge di iniziativa dei membri dell'Ufficio di Presidenza che regola i trattamenti economici delle figure del sottosegretario alla Presidenza della Giunta e dei segretari questori a seguito delle recenti modifiche statutarie. Il testo definisce pure le incompatibilità della sottosegretaria. Si tratta di un percorso di lungo periodo che nasce da una volontà che era maturata in maniera molto chiara da parte del Presidente della Giunta regionale di affiancarsi un sottosegretario alla Presidenza della Giunta scelto tra i consiglieri regionali che lo coadiuvasse nell'esercizio delle funzioni collegate al suo mandato. La riforma dello Statuto era stata effettuata lo scorso anno dal Consiglio regionale ma servivano le leggi di attuazione per consentire operatività a questa figura. Ieri il Consiglio regionale in via definitiva quindi ha dato operatività alla figura del sottosegretario dotandola di uno staff operativo di segreteria fornendo tutte le strutture che sono funzionali all'esercizio delle sue funzioni. Mi piace però sottolineare come in questo passaggio normativo ci sia stato anche il rispetto di quanto il Consiglio regionale aveva voluto cioè che l'istituzione della figura del sottosegretario avvenisse senza un aumento dei costi della politica. Infatti si è stabilito che l'inserimento nel contesto degli assetti della Giunta regionale della figura del sottosegretario avvenga con una corrispondente riduzione delle indennità degli assessori in modo tale che ci sia un'invarianza nei costi finali. Per noi è utile una figura ovviamente a costo zero tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale ma se è scelto all'interno del Consiglio regionale quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini che ci sia una figura che faccia dal raccordo politico tra la Giunta e il territorio cioè assolutamente per noi è utile. Poi in realtà non abbiamo capito se è utile o meno per il Partito Democratico perché hanno aspettato due anni e mezzo a portare la legge in votazione all'Aula l'hanno portata dicendo al termine di un congresso di un'assemblea regionale del Partito Democratico cinque mesi fa quando il Presidente Gianni venne chiesto se avrebbe o meno istituito questa figura e l'ha derubricata a una figura necessaria a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta quindi se serve a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta ci sembra un po' una forzatura e alla fine il nuovo eletto segretario regionale Fossi poco più di dieci giorni fa ha detto che non è adesso il tempo di istituire il sottosegretario ad oggi non ci serve quindi non capiamo perché il Partito Democratico abbia voluto per forza votare questa Roma in Aula se non serve a loro abbiamo stato contro per questo. Ma su questo noi fin dall'inizio abbiamo fatto una battaglia di carattere politica siamo stati gli unici ad essere contrari a istituire un nono assessore a istituire due sottosegretari ad aumentare l'ufficio di Presidenza da 5 a 7 persone cinque cariche politiche che a nostro avviso sono eccessive su questo abbiamo portato avanti una battaglia politica in primis io in solitario anche il mio partito ma anche poi alla fine anche altri consiglieri e continuiamo nella nostra coerenza siamo ormai arrivati a metà del mandato riteniamo eccessivo un appesentimento dei costi della politica anche in un momento molto delicato di crisi economica di difficoltà del personale dipendente c'è un contenzioso aperto con le organizzazioni sindacali c'è un'avvertenza molto delicata tante sono le avvertenze anche nel mondo del lavoro e quindi crediamo che in questo momento abbiamo chiesto di soprassedere perché a nostro avviso non è opportuna si è visto che in due anni e mezzo di mandato come abbiamo espresso anche peraltro un giudizio positivo sull'operato della Giunta in questa prima metà del mandato si possa proseguire in quella direzione siamo stati coerenti non abbiamo partecipato al voto perché ritenevamo che questo non fosse opportuno noi siamo convinti che la dotazione di otto assessori 41 consiglieri e 5 persone in ufficio presidenza sia ampiamente sufficiente per svolgere le funzioni sia di carattere politico che di carattere di rappresentanza che di carattere amministrativo e come tali siamo stati coerenti in una battaglia che non vuol dire venire meno a un impegno di maggioranza ma vuol dire come Italia Viva essere coerenti fino in fondo con gli impegni che noi abbiamo preso con i cittadini al momento in cui siamo stati eletti in questi due anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio nelle varie commissioni nella presentazione di proposte di legge quando parlavamo di bilancio di ambiente di lavoro di sanità e quindi riteniamo che la figura del sottosegretario auspicando che questa nomina avvenga ripetendo che è a costo zero quindi a invarianza di costi per la politica venga nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza che comunque ha anche delle corsie preferenziali dei rapporti preferenziali con la Giunta ma soprattutto l'opposizione nel capire purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito quali siano le strategie del Presidente della Giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve come per esempio il piano dei rifiuti il piano dell'aria il piano dell'acqua e anche tutto il tema sanità che a noi ci sta molto al cuore spesso si parla anche di mancanza di risorse in tema di bilancio ecco noi vorremmo avere una figura all'interno del Consiglio regionale con cui rapportarci quotidianamente per avere una serie di risposte che molto spesso mancano da parte della Giunta non siamo contrari in maniera ideologica quello che però troviamo inaccettabile è che in un momento storico come questo e soprattutto in una fase dove nel Consiglio regionale lamentiamo la carenza di dipendenti e personale per attività come Artea Arpa quindi per tutti gli organismi che sono davvero di servizio e di supporto alle attività amministrative spendere mezzo milione di euro per dare diciamo un appannaggio un supporto a delle figure che sono eminentemente politiche mi viene da dire che il sottosegretario ha lo stesso appannaggio di personale di un assessore quel non assessore che con tanta energia Eugenio Eugiani ha cercato all'epoca per i suoi equilibri interni della maggioranza ecco riteniamo che sia una cosa scorretta riteniamo che non sia l'atteggiamento con cui si dovrebbe ci si dovrebbe approcciare alla politica e anche alla gestione delle nostre attività Chiudiamo con l'arte e la cultura in consiglio regionale una mostra dedicata a Franco Bulletti A cinque anni dalla sua scomparsa il consiglio regionale ha voluto omaggiare l'artista fiorentino Franco Bulletti con la mostra Lo spazio Il tempo Leonardo allestita nello spazio espositivo Ciampi in Palazzo del Pegaso è visitabile fino al prossimo aprile Bulletti ha saputo rileggere la grande lezione leonardesca reinterpretandola nelle soluzioni formali del nostro tempo una ricerca che parte dalla considerazione dell'attività artistica come profondo processo conoscitivo della realtà capace di superare le distinzioni e mettere in relazione oggetti e spazi la geometria la matematica la logica diventano strumenti espressivi che come già è Leonardo svelano un mondo popolato di simboli dialoganti tra loro Mio padre è mancato già da qualche anno e questa è la prima mostra dopo quindi la sua morte mi piace particolarmente perché ci sono alcuni quadri che non sono mai stati esposti e quindi questa è stata l'occasione importante per poterli esporre quadri come questi che vedete dietro di me che marcano anche un passaggio stilistico dalle velature con le carte giapponesi che aveva usato per tanti anni a una pittura più materica con delle forme pur sempre geometriche ma che ricordano più figurativamente elementi anche di architettura architettura senza tempo Franco Bulletti è stato un grande artista e anche un grande uomo che non è così automatico soprattutto diciamo negli artisti del nostro secolo e del novecento lui era un uomo veramente molto intelligente molto razionale lo si vede proprio da queste opere dove ha inserito dei piccoli frammenti di fogli da Leonardo da Vinci c'è un motivo perché lui era un grandissimo grafico e art director quindi un uomo molto poliedrico e quando dipingeva si ricordava di quello che aveva fatto per i manoscritti di Leonardo che sono stati edit in facsimile anche grazie a lui come art director quindi ritagliava queste prove che noi usavamo poi nell'editoria per pubblicare i facsimili di Leonardo e l'inseriva però in un modo assolutamente unico con una grande idea della della spazialità e della geometria che è straordinaria anche un grande senso della materia dei colori che poi negli ultimi tempi ha trasformato anche usando dei materiali diversi come la sabbia questi dunque erano i temi principali della puntata della voce del consiglio l'appuntamento come sempre per la prossima settimana ovviamente su RTV38 grazie per l'attenzione e buon proseguimento arrivederci a Grazie a tutti.